Raga, molti di voi mi chiedono la relazione che c'è tra un italiano, una giapponese, una italiana, un giapponese Com'è la relazione? Come la devono affrontare? Cosa si devono aspettare? Ma molti mi hanno fatto domande proprio su questa cosa qua di litigare, no? Le incomprensioni dovute comunque a due realtà diverse Questa cosa incuriosisce molte persone, spaventa altre persone, mette dei dubbi A volte questi dubbi possono incidere in una relazione Perché la gente parte troppo prevenuta, oppure si fa troppi problemi, no? Se viene andata, dice, oh mio Dio, come mi devo comportare? Se faccio questo, come la prende la mia compagna, il mio compagno? Forse non devo fare così E si fissa la gente, si fissa non andare a leggere roba su internet Cercare di capire come sono alcune cose Cercare a volte di non essere se stessi Per cercare poi eventualmente di piacere al proprio compagno, alla propria compagna I litigi, le relazioni, a prescindere dalla nazionalità, esistono Fanno parte della relazione e servono alla relazione Uno pensa che nella vita bisogna sempre andare d'accordo A parte che non è possibile una cosa del genere Anche se siete tra i due italiani Cioè, non è una cosa... Nella relazione c'è... A volte il litigio o la discussione Porta la relazione a consolidarsi e a migliorare Perché confrontandosi le due parti Possono comunque capire le debolezze che hanno Possono capire se c'è qualcosa che non va Possono affrontare un problema E insieme ne possono uscire e migliorare la relazione Quindi c'è anche un fattore di vantaggio Una delle cose che ho sempre detto Che a volte, credo io, nella mia esperienza Io parlo per discorso Io ho una relazione con una ragazza giapponese da sei anni E sono sposato, ho una bambina Ma non è che io ho conosciuto una prima ragazza E me la sono sposata Ho avuto relazioni con altre ragazze Sia giapponesi sia comunque asiatiche Cioè, ho avuto ragazze coreane Ho avuto ragazze cinesi Ho avuto ragazze tailandesi Cioè, non è che io non ho... Mi sono fissato Cioè, la prima amore E quella è una mia esperienza di vita L'ho avuta Ho visto comunque varie situazioni Ho parlato con un sacco di persone Che mi hanno raccontato anche le loro esperienze Diverse in base alla situazione Mi hanno detto Già mi è successo questo Già mi è successo quel lato Quello che vi dico io, raga Alla base di tutto quanto Credo che molti rapporti a volte Possono indebolirsi in Giappone Perché i giapponesi non amano a volte affrontare problemi Cioè, nei rapporti a volte Non si discute Per evitare di creare una forma di asti Oppure di una litigata Quindi che succede? Se qualcosa non va bene Uno dei due coniugi lo tiene per sé Cerca di andare avanti Io sono molto contrario a questo tipo di situazione Perché se tu un problema Ha una cosa che ti dà fastidio Una relazione Non l'affronti Quel problema non è che svanisce I giapponesi hanno stato abitudini di pensare Che il problema si risolva da solo A volte loro evitano una situazione E poi si risolve No Quello è un problema che rimane E tornerà poi in futuro Più forte di prima Creando un'ora più Stabilità nelle relazioni Quindi cosa che uno deve affrontare Nella relazione Come l'ho impostata io E ho detto Mio amore Io non sono giapponesimo Quindi Con me C'è qualcosa che non va Faccio e faccio Se parla Tu me lo dici E ne affrontiamo Perché mi piace il dialogo Nella relazione Ma lo dovete Voi impostare sta cosa Perché non tutti I giapponesi sono pronti A esprimersi Ad aprirsi Anche se siete Siamo sposati La timidezza La paura di essere giudicali La paura di essere Fragili Raga A volte Quello è Vulnerabili Ecco Il termine giusto è Vulnerabili Essere vulnerabili A volte Le persone cercano Di dimostrare Sempre di farcela I giapponesi cercano Hanno paura Di dimostrarsi deboli E vulnerabili Quindi A volte anche in una relazione Dove c'è un matrimonio Si evitano alcune situazioni Per queste cose Del quieto vivere Che poi alla fine Non lo è Ecco vi ripeto Col tempo Ste problematiche Poi si ripresentano E non se ne esce Quello che è Alla fine Che c'è Deve essere Un sentimento forte In una relazione Soprattutto se Nella parte vostra Poi si vuole arrivare A un contesto Del matrimonio Perché Il matrimonio Non lo si deve fare Per interesse di visto O per la voglia Di voler rimanere in Giappone Non si deve spingere Il vostro compagno La vostra compagna A fare un passo grosso Semplicemente Per risolvere un problema Di Permanenza in Giappone Deve essere Una scelta Consapevole Da ambe due le parti E di quanto sia Pesante la responsabilità Non andando a livello Di documenti Ma il matrimonio È una cosa seria Io la vedo così Poi nei commenti Dimmi quello che vi pare A voi Quindi io non ho mai visto Non ho mai strumentalizzato La cosa del matrimonio Per una questione mia Perché io ho detto Mia moglie ho scelto Te perché ti amo Te Potevi essere Qualsiasi paese Del mondo Non mi interessa Non è che ho scelto Te per vivere in Giappone A me non mi interessava Il suo paese Primis Cioè quindi Io come ho fatto Le valigie Vieni qua Faccio valigie Le tue E me ne vado Cioè non è una questione Che io devo usare La tua Te per rimanere qua Devo ingoiare il rospo Quindi la relazione Deve essere sana Perché nel nostro ambiente Sano Crescerà pure Adesso che abbiamo Una figlia Quindi io non voglio Situazione di litigi O situazione Non voglio che mia figlia Cresca in un ambiente Dove è malsano Dove si respira Tensioni Voglio che si deve Respirare amore Si deve respirare rispetto Si deve respirare complicità Questo è quello Che io sto cercando Di impostare Nel mio matrimonio E invito voi A pensare sempre A queste cose qua Occhio Ripetelo Non mi stancherò mai Di ripetere questa cosa Occhio Cercate di capire Se il vostro partner Ha idea Consapevolezza Di cosa vuol dire Affrontare Un visto matrimoniale Di cosa vuol dire Affrontare una relazione A volte l'amore Il sentimento La voglia di non rimanere solo E ci rende ciechi E pensiamo Di poter affrontare Qualsiasi cosa Ma non è sempre così Non è facile E molti mi hanno detto Che io esagero Alcuni hanno detto Pure in un video Contro di me Che io esagero Sul discorso Del visto matrimoniale E delle responsabilità Semplicemente Sono pesanti Non tutti sono disposti A prendersi In carico Alcune situazioni Soprattutto se c'è Una ragazza Che prima pensava Che semplicemente In matrimonio Avrebbe sistemato tutto Quando poi Si rende conto Che non è così È che le carte I documenti I permessi E quelle tasse pagate E quelle responsabilità Da firmare Ci sono un sacco Di situazioni E la cosa Diventa grossa Quando la Vostra compagna O il vostro compagno Non ha i requisiti Per affrontare Il visto matrimoniale Deve subentrare Un suocero Quindi il vostro suocero Deve fare Da garante Per voi Quindi Bisogna anche vedere Il vostro Il vostro ruolo Nella coppia Il ruolo Della vostra relazione Nel contesto Dei vostri suoceri Se siete accettati O meno Come stranieri Il fatto Se garba A vostro suocero Che La vostra presenza È il futuro figlio O figlia Che ne nascerà Che ovviamente Sarà Affo Come dicono qua Perché a volte Mi guardano A passeggino A me Dovano fare un video Su questa cosa Mi pare In realtà Crema Tipo una gopro Per farvi vedere Le scenette A volte Che cercano di capire Non è che loro Uno potrebbe essere Bello Che si fermano E dicono Che bella Posso vederla No Che far Ti guardano Dall'angolo Io non so Cosa ti aspettano Che c'è Tentacoli Che c'è Che è un alieno E una bambina Cioè Leggermente Non sarà A 100% Asiatica Si vedrà La parte occidentale Mia Però non è niente Dio Mio Dio Dobbiamo guardarla Codina allontano Senza che ci nota Il padre A volte mi fanno Morire Giapponesi Quando potrebbero fare Tranquillamente Si avvicinano Né che li mordo Questa cosa qua Loro sono molto curiosi Questo capita qua A Tokyo Non capiterà Perché c'è una marea Di stranieri Che E la gente Si sarà pure scocciata Di avere stranieri Con i passeggini Qua se andai È raro Vede Uno straniero Con passeggino È raro Perché non ce ne sono Tanti Stranieri Quindi è normale Che più ti sposi In zone Meno Meno Turistiche O meno Conosciute Più ti confronti Con delle realtà diverse Ragazzi Siete voi stessi Nelle relazioni Rispettate le regole Rispettate come funziona Cioè 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 Alcune situazioni Sono diverse Dalle nostre E non provate a cambiarle Non le potete cambiare Perché Non potete Soprattutto non c'erate pure i figli Non potete pensare Di poter crescere Al cento per cento Vostro figlio O cercare di impostare La vostra vita Come se fosse in Italia Perché Se volete Fare una cosa del genere Tornate in Italia Vi troverete sempre In una situazione Di asti a volte E Dovete capire che è diverso E quindi vi dovete adeguare Ovviamente Dovete Esprimere Il vostro parere Dovete far Notare Come la vostra opinione Perché non è che Voi dovete Subire Senza Esprimere nessuna cosa Io ho Una cosa bella Che mia moglie Ha un carattere Forte E in due Siamo abbiamo due Caratteri forti C'è un Sempre Una Un Modo di Di confrontarci Ogni cosa Ogni scelta che abbiamo fatto Nella nostra vita L'abbiamo scelta a tavolino L'abbiamo decise insieme Ma a volte è capace Che una ragazza giapponese Non ha quella cosa Di carattere Di mettersi E lascia fare Al compagno O ha bisogno Di qualcuno Che la trascini Nelle scelte Perché Da solo La persona è capace E capace Che sia così Non pensate Che ogni persona Sia forte A prescindere Non vi dico io La sincerità Onestà E prima di tutto Tenete presente sempre Che Non diventate schiavi Del contesto Tipo io Vi dico Il visto matrimoniale Perché Quando una donna Ha il potere Ed è visto Capace Che potrebbe Decidere Di comandare O comunque Di osare Perché dice Io c'ho il controllo Se vuoi Così Se no Ci licenziamo Ci divorziamo E tu te ne torni Al tuo paese Potrebbe fare così Se questa relazione Ce la vedete così Già avvelenata così No Non dovete diventare schiavi La ripeto La relazione è una cosa Che si cammina Insieme In un futuro Insieme Si costruisce qualcosa Insieme Non si è schiavi Di qualcuno Non vi serve Una donna Che vi lavi E vi cucini Perché siete capaci Di farlo da solo Quindi È meglio Se una donna Che la pagate Una persona Un uomo Una donna Che vi fa le polizie In casa Una volta Due volte A settimana Ma non Aspettatevi Che la donna Che vi sposate Divenda la vostra Schiava personale È la vostra Compaglia di vita Non è La sguattra Da casa Come l'uomo Non è lo schiavo Cioè cercate sempre Di tenere questa cosa qua Le relazioni col tempo Si disintegrano E soprattutto Quando c'è troppo silenzio Questo voglio dire Perché uno si aspetta Cosa sia la relazione Semplicemente rispetto Guardate che Non è che una ragazza giapponese Sia così diversa Da un'altra ragazza Semplicemente Forse Hanno Leggermente Dei modi Di Confrontarsi La relazione È fatta con i sentimenti Il rispetto Quello dovete avere A prescindere L'anzionità di una persona Quello è Se volete fare qualche domanda Che Mi interessa Ricolpisce questa cosa qua Nei commenti Fatela Senza problemi Risponderò Nei commenti Le ho sicuro Si dà Mi sono mai litigato Con mia moglie Capitato Ovviamente Le discussioni capitano E ha fortificato Sempre il rapporto Perché siamo Due persone Che vengono Da due modi diversi Due modi di vivere diversi A volte Non ci confrontiamo E scopriamo Che alcune cose Sono diverse Nei due paesi Cresciamo insieme E miglioriamo Le nostre relazioni Insieme E questo Io quello che voglio È riuscire a creare Un matrimonio duraturo Nel tempo Che mia figlia Ma non so se ne verranno altri Questo non lo so La vita è sempre così Imprevista Ma al momento E vi ripeto Che mia figlia crescono In un ambiente sano Non deve essere sciastrio Perché raga Non si va avanti Se si vive male Una relazione Una persona Che tu Vai a dormire Insieme Ti svegli insieme E torna a casa Dopo lavoro Comunque state insieme Insieme Cioè lungo andare Logora l'anima E non va bene Per sia voi E sia l'altra persona Quindi questa è una Vi ho detto un po' La situazione com'è Quando uno si aspetta Di Non vi aspetta Di dover fare 18.000 cose A volte Se la vostra compagna O il vostro compagno Vi ha scelti Vi ha scelti anche Perché siete stranieri Quindi hai scelto La vostra parte diversa Dalla massa Quindi non cercate Di essere giapponesi Non cercate di fare Come i giapponesi Perché se voleva Se fidanzava Con un giapponese Con una giapponese Lo sceglieva voi Se vi ha scelto O vi sei innamorato O vi sei innamorato Di quella parte di voi Che non è asiatica Quindi è bello Della relazione Il fatto che sia Un insieme Tra la vostra cultura E la sua cultura Non diventate giapponesi Non lo fate Perché Ripeto Se no Cercava uno del posto E faceva prima No Cosa ne pensate Un bacio ragazzi Fate bravi E ci vediamo Un prossimo video Dalla gioppone